Orroscopo Paolo Fox e Branco Oggi 29 Marzo, Le Previsioni su Fortuna, Lavoro e Amore. Scopriamo insieme le previsioni di questa giornata su Amore, Lavoro e Fortuna per ogni segno zodiacale. Ariete. Oggi forse ti farà benessere un po' più riflessivo, pensare un po' di più alle cose prima di agire, perché sarai ossessionato da qualcosa che vuoi ottenere sopra ogni altra cosa, o vuoi che si riveli per te simpatia, quando probabilmente non ti si addice o non sarebbe l'opzione migliore. Lascia che tutto scorra e non lottare per cose che non valgono la pena. Oggi le tue capacità di mediazione saranno molto utili per dissipare le discussioni che stanno fermentando intorno a te. La vostra estrema sicurezza vi condurrà a piacevoli incontri. Sarai in sintonia con coloro che ti circondano. Ariete. Hai bisogno di una classificazione nelle tue relazioni con gli altri. Alcuni di loro stanno danneggiando la tua vita privata e tu lo sai. Prendere le decisioni necessarie. Non respingere il tuo istinto, ti condurranno alla realizzazione. Toro. Anche se tradizionalmente il martedì gode di una cattiva fama, oggi però vi aspetta una giornata piacevole e i migliori risultati che otterrete saranno quelli che sono legati alla vostra vita affettiva o familiare, o semplicemente al raggiungimento di un obiettivo lavorativo che vi entusiasmava particolarmente. Sarà anche molto favorevole per i viaggi. A partire da oggi, il tuo senso di avventura si intensifica. Puoi fare piani di viaggio e cercare l'avventura per le prossime quattro settimane. Ripensa le cose da un'altra angolazione e senza aggrapparti a piani vecchi e limitanti. Il tuo ascolto e i tuoi consigli saranno preziosi per il tuo partner e per le persone più vicine a te. Agisci sui tuoi impulsi e non fermarti, ti guideranno nella giusta direzione. Alcuni toro potrebbero iniziare la storia d'amore con qualcuno di diverso. Gemelli. Oggi affronterai una giornata particolarmente tesa, tesa o stressante, almeno nella sua prima metà, ma poi finirà per essere molto diversa e potrai rilassarti molto di più verso il pomeriggio o la fine della giornata. Grandi lotte e tensioni sindacali, ma che finalmente possono essere risolte con successo. Attenzione ai tradimenti. Le tue convinzioni influenzeranno se ne parli, quindi fallo apertamente. Raggiungerai un accordo con qualcuno nel tuo ambiente e sarai tu a renderlo possibile. Sarai pieno di certezze e farai tutto ciò che è in tuo potere per testare e confermare. Potresti rapidamente diventare disincantato. Gemelli. Troverai facile seppellire l'ascia, risolvere i problemi e trovare un utile terreno comune con il tuo partner. Questo è un ottimo momento per incontrare nuove persone. Cancro. Non dovresti preoccuparti troppo che un giorno le cose non ti vadano troppo bene e potresti persino prendere una brocca di acqua fredda, che è esattamente quello che ti succederà oggi. Perdere qualche piccola battaglia non è così importante perché si tratta di vincere la guerra. Gli errori ci fanno imparare e migliorare. Oggi avrai più obiettività e un senso di distacco, che ti permetterà di ottenere una migliore comprensione delle tue relazioni più strette. Un amico ti introdurrà a nuovi piaceri. Apriti a nuove idee e vincerai arricchendo chiaramente la tua concezione dell'amore. Il tuo bisogno di libertà ti rende attraente agli occhi degli altri. Stai davvero uscendo dal tuo guscio. Il cancro, porta una piccola novità al tuo ambiente. Leone. Sei in un grande momento di fortuna, anche se non sempre ne sei consapevole, e nei momenti difficili, quando le cose si mettono molto male, qualche aiuto arriverà sempre dal lato più inaspettato, ovvero dalla persona. Oggi avrai l'opportunità di vivere una situazione di queste caratteristiche e di essere consapevole della tua buona stella. Sei consapevole degli errori del passato e hai bisogno di fidarti di qualcuno. Avrai le mani libere e beneficerai di una maggiore fiducia in chi ti circonda per mettere in pratica le tue idee. La tua vita amorosa sta prendendo colpi di scena sorprendenti. Imparerai molto di più se approfondisci le discussioni. Questo è il momento di mostrarti come sei, non esitare. Leone. Dare l'esempio è il modo migliore per farlo. Vergine. Il destino ti renderà giustizia di fronte a una situazione ingiusta e immeritata che dovrai vivere al lavoro o nella vita sociale. Se qualcuno vuole affondarti o toglierti di mezzo oggi, rimarrà a desiderare perché il destino verrà in tua difesa, attraverso una persona o qualche altra circostanza, e trionferai sul male. Oggi non potrai resistere all'espressione di ciò che pensi forte e chiaro, anche se crei scintille intorno a te. Le cose saranno molto inquiete e avrete mille cose da fare. Tuttavia, non dimenticare di finire le cose più importanti. Nella tua vita amorosa, sarai in grado di comprendere un blocco dentro di te. Vergine. Non esitare a fare le domande che ti hanno infastidito ultimamente. La tua franchezza ti porterà fortuna. Bilancia. Sei il miglior diplomatico dello zodiaco, il più brillante nei momenti di armonia, ma se oggi vuoi che la vita ti renda giustizia e che le cose vadano come meriti davvero, allora dovrai lottare e rivendicare i tuoi diritti. Tutto è a tuo favore, ma devi alzare la mano per prendere ciò che è tuo, non te lo daranno. Oggi potresti sentire uno spostamento dell'attenzione verso la casa, la famiglia e la tua vita privata. Potresti essere più coinvolto con un genitore. Bilancia. Sarai più incline a cercare quelli che sono proprio come te. Basta non diventare intolleranti. Senti il bisogno di fuggire mentalmente e allontanarti dal trambusto quotidiano. Sarai ricompensato per gli impegni che il tuo partner pensa che tu stia per prendere. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, basta seguire il tuo cuore e lasciarlo parlare. Scorpione. A partire da oggi, il tuo ritmo quotidiano accelererà. Avrai cose da fare, posti dove andare e persone da vedere. Divertiti a parlare con i tuoi fratelli, parenti e vicini, oltre a leggere e scrivere più del solito. L'atmosfera è allegra e armoniosa. Le persone intorno a te non ti deluderanno. Il vostro bisogno di amore sta aumentando e il vostro cuore si apre agli altri. Il tuo entusiasmo ti sta portando nella giusta direzione. Semplicemente, Scorpione, devi cedere alle tue emozioni interiori. Oggi il problema più grande potresti essere tu, perché avrai la tendenza a cadere nel pessimismo e prendere i problemi che si presentano come se fossero una tragedia. È vero che la giornata è un po' difficile per voi e molte cose potrebbero esservi complicate, ma è solo una piccola nuvola estiva che passerà molto presto. Sagittario. Devi stare attento al tuo temperamento, perché sebbene tu sia gentile, di buon carattere e ottimista, puoi anche essere terribilmente arrabbiato e distruttivo quando ti lasci trasportare dalla rabbia. Ecco perché oggi devi stare attento, poiché potresti far emergere quel lato violento e guerriero che viene fuori quando ti senti deriso o tradito. Finalmente raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato ultimamente. Cogli l'occasione per pianificare la tua economia perché è giunto il momento di investire nella tua salute e consumare cibo di alta qualità. Non limitarti quando si tratta del tuo benessere. Capricorno. L'influenza avversa di Marte ti farà avere qualche doloroso turbamento oggi nella tua vita amorosa o familiare. In questi momenti è più che mai necessario vivere in un clima di affetto e armonia, ma oggi quella speranza sarà frustrata dallo scoppio inaspettato di un piccolo ma spiacevole conflitto. Sii prudente. L'angelo Gabriele ti dice di osare esprimere i tuoi doni naturali e manifestare la tua essenza. Tutte le iniziative che prendi oggi saranno sulla buona strada, quindi voglio che tu faccia un elenco con ciò che è più importante e senza perdere tempo a partire. Acquario. L'acquario va sempre dall'altra parte rispetto agli altri segni, o va per la sua strada, e oggi è generalmente un giorno difficile per quasi tutti i segni, tuttavia sarai uno dei più fortunati e sarai fortunato a vivere un giorno di successo o successi sul lavoro e altrettanto armoniosi e persino felici nella tua vita intima e nell'ambiente familiare. Oggi farai un viaggio attraverso il tunnel del tempo ricordando momenti, ricordando esperienze e riflettendo. L'angelo Gabriele ti dice che se devi correggere una colpa, pagare un debito o chiedere perdono fallo presto perché ti sentirai sollevato. Pesci. Oggi la fortuna sarà con te quando fai affari e tutti i tipi di questioni relative al denaro. Potresti anche ottenere dei soldi inaspettati, riscuotere un vecchio debito, o chissà se forse la lotteria ti dà gioia. Ma ciò che le stelle indicano chiaramente è che oggi avrai una buona giornata per tutto ciò che è finanziario. L'angelo Gabriele dice di non isolarti perché hai così tanto da fare e da condividere. Esci dalla reclusione, stabilisci connessioni e inizia a costruire con altri esseri quel mondo che sogni. Pianifica qualcosa che ti stimoli e incoraggi l'interazione con i tuoi amici.